Musica Qualsiasi cosa ragazzi lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdervi niente dei video futuri Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa Soprattutto ragazzi cliccate sulla campanella ozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri Buona visione Grazie Ezio, Ezio, se era Antonio desidera parlare con te Grazie del messaggio Soprattutto ragazzi Grazie Grazie se non scendi diventerai un puttaspilli giù, subito ah, eccoti vieni Ezio vorrei presentarti un socio questo è Agostino Barbarigo il futuro d'oggi di Venezia, grazie a te è un onore fare la vostra conoscenza, illustrissimo condoglianze per vostro fratello ce l'hai cercata si è messo al soldo dei Borgia un errore che io non ho intenzione di fare vieni Ezio, dobbiamo parlare abbiamo trovato Silvio Barbarigo è fuggito all'arsenale ah, fuggito vuoi dire che l'ha occupato con almeno 200 mercenari ora siete il doge potete ordinargli di deporre le armi il comitato dei 41 deve ancora ratificare la mia nomina e questa trovata di Silvio ha solo peggiorato le cose ha un esercito intero al suo comando allora ne serve uno anche a me sapevo che l'avresti detto l'uomo che ti occorre è Bartolomeo d'Alviano lui e i suoi uomini detestano Silvio vive nel distretto militare a sud ovest dell'arsenale va bene andrò a cercarlo grazie a tutti 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 grazie a tutti